Amici di Readball siamo sempre da Sony a Milano per vedere più da vicino il dispositivo più entry level dell'azienda, parliamo di Sony Xperia E5, un dispositivo dalle dimensioni molto compatte, parliamo di un display da 5 pollici con risoluzione HD 720p, un dispositivo che arriverà sempre nel corso delle prossime settimane ad un prezzo consigliato di circa 229 euro. Come vedete c'è Android 6.0 Marshmallow a bordo con la personalizzazione di Sony che però è stata davvero molto ridotta all'osso e quindi non abbiamo più molte applicazioni preinstallate o tante funzionalità aggiunte ma stavolta viene preferita un'interfaccia più vicina a quella di Android Stock. All'interno c'è un processore Mediatek quad core a 1,3 GHz accompagnato da 1,5 GB di memoria RAM e soprattutto però abbiamo anche l'opportunità di espandere i 16 GB di memoria integrata con una economica scheda microSD. I pulsanti principali sono tutti a destra del dispositivo essendo un dispositivo entry level non troviamo un lettore di impronte digitali come quello della gamma X e qui invece abbiamo lo sportellino per accedere appunto alla scheda microSD e al vano di memoria. Nella parte frontale spicca anche una fotocamera da 5 megapixel per farsi ovviamente i selfie invece dietro abbiamo un modulo con flash led da 13 megapixel. Come sempre Sony peraltro ci tiene molto a ricordare la presenza della connettività NFC e quindi troviamo il logo proprio di NFC sopra quello di Xperia. È un device molto interessante perché ha un prezzo sicuramente molto concorrenziale, offre un'esperienza software piuttosto valida con una personalizzazione davvero molto bella e molto semplice da utilizzare e soprattutto abbiamo all'interno una batteria da 2300 mAh che abbinata alla modalità stamina di Sony dovrebbe farci tranquillamente affrontare sia la giornata media di utilizzo ma anche oltre. Quindi possiamo magari scordarci per una giornata il caricatore a casa e non avremo problemi con questo dispositivo. Vi ricordo il prezzo 229 euro arriverà appunto nel corso delle prossime settimane di Xperia E5 come di Xperia XA Ultra di cui trovate la nostra anteprima sul nostro canale. Devo dire che mi è piaciuto sicuramente il design è un dispositivo semplice nelle sue forme, semplice nella sua estetica ma non per questo da sottovalutare. È molto comodo, si fa utilizzare davvero bene con una mano grazie al display da 5 pollici e soprattutto l'unità stessa l'ho apprezzata perché ha una qualità davvero molto alta come ormai siamo abituati con i display di Sony. Questo era Xperia E5 qui da Sony a Milano, un saluto al prossimo video per RedBull.com, Andrea Ricci.